Siamo sempre con il nostro consolo onorario dell'Ucraina, prima di andare all'estero in altre realtà restiamo sempre all'estero però a comprendere meglio, a spiegare meglio ai nostri telespettatori la situazione dell'interesse sull'Ucraina, perché si è incentrato e scoppiato tutto questo, che poi vista da altre parti del mondo effettivamente l'Ucraina è a casa nostra, perché siamo comunque nolenti e dolenti in Europa e quindi è in casa nostra la situazione caldissima dell'Ucraina, che non fa certo piacere in un contesto di Europa aperta, unita eccetera. Perché questo interesse? Perché non è stata lasciata la propria autonomia e indipendenza? Perché la Russia ha così forti interessi? Fa delle pressioni? Insomma cosa ha scatenato il tutto? Allora dovete sapere che l'Ucraina è comunque sempre stata una grande costola dell'Unione Sovietica e della Russia, quindi pensare l'Ucraina completamente scollegata al sistema russo è impensabile. Anche a livello economico l'80% del loro fatturato, del loro turnover va eseguito verso la Russia, quindi la sofferenza del paese in questo momento è dovuta anche a una mancanza della possibilità di far fronte, di esportare verso la Russia dove viene in questo momento boicottata. L'interesse e la situazione è stata creata da un interesse americano, europeo-americano, di poter portare, di conglobare un'Ucraina all'interno di un sistema europeo, praticamente per sottrarla a un sistema russo. Quindi grandi potenze che hanno fatto questo. Per chi non lo sapesse l'Ucraina, in Crimea c'è la flotta anche attualmente russa, è l'unico sbocco sul mare da parte della Russia, è un punto strategico, grandissimi armamenti, una quantità di armamenti vengono prodotti in Ucraina per la Russia, tantissime fabbriche sono collegate al sistema industriale, al sistema produttivo russo. Gli Ucraini sono sempre stati il granaio e il produttore per la Russia di tanti componenti. Ecco un sistema tecnologico, un sistema produttivo molto avanzato. Lasciare l'Ucraina per la Russia significa strategicamente perdere veramente una grande costola e quindi lasciare praticamente la possibilità ad altri paesi di usufruire delle opportunità ucraine e di giocarsi la predominanza. E adesso un attimo solo, se ricordo che siamo arrivati, vediamoci una telefonata in attesa, vediamo se ancora c'è. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, dove chiama? Dalla provincia di Venezia. Sì, dica, buongiorno. Sì, sentivo prima il signore che diceva che l'Ucraina è una fonte di approvvigionamento per la Russia. Sì. Perché ci sono le fabbriche dove fabbricano i… Sì, sì, comunque ci sono aziende, sì, sì. Ci sono aziende. Purtroppo là c'è anche la… ci sono i conflitti adesso. Non è meglio di non andare troppo, secondo il mio punto di vista, è… Visto che l'Europa vuole tanto fare da padrona o no dei confini, prima che succeda qualcosa di più serio, non è meglio fare retromarcha e lasciare le cose come sono. Adesso sentiamo cosa… Adesso sentiamo cosa… Quindi lei dice lasciare perdere la questione. Adesso le spieghiamo un attimo. Grazie, adesso intervento. Sì, grazie alla domanda. È una domanda interessante e molto provocatoria. Cioè, tornare al sistema, a quello che praticamente è avvenuto prima di un anno fa. Per evitare il peggio, dicevo. Per evitare il peggio. Dobbiamo pensare anche a una coscienza delle persone che vivono in Ucraina. Cioè, una coscienza di, non dico lì 46 milioni di abitanti, ma 40 milioni di abitanti che sono propensi di avere uno sbocco più verso l'Europa che non verso la Russia. Questa situazione che è andata in escalation dall'ultimo anno. Mi ricordo proprio il 20 di febbraio dell'anno scorso c'è stata la rivoluzione di Maidan. Quindi in piazza una parte della popolazione è in sorta, in contrapposizione a questo accordo del presidente Yanukovic che non era stato firmato con l'Europa per avvicinare le frontiere, l'interscambio delle merci. La popolazione è in sorta per protestare contro questo e per non andare ancora verso la Russia, ma verso l'Europa. Quindi è difficile riuscire a pensare che la maggior parte della popolazione voglia tornare verso un sistema russo o comunque un predominio russo. È come una cosa in una Russia comunque moderna, ne è passato un po' di tempo, dalle situazioni estreme anche di chiusura. Noi vediamo anche flussi turistici importanti di russi, vediamo aperture commerciali significative, anzi varchi ci sono stati fino a ieri che hanno consentito arricchimenti anche di molte imprese del nostro nord-est. Che problema c'era restare con la Russia? Cerchiamo di capire lei che l'ha toccata con mano cosa voleva dire, perché forse anche il nostro telespettatore non riusciamo a comprendere bene cosa significhi, cosa voglia dire, se ci sono delle limitazioni anche nella libertà o di altro genere, economiche. Perché adesso questo punto per il cittadino italiano diventa più penalizzante restare in Europa, lo so mi rendo conto per assurdo, però non vede nessun vantaggio se non degli strozzamenti incredibili. Altri dicono no, caspita meno male che ci siamo in Europa in un sistema aperto perché io posso commercializzare eccetera. Altri lo vedono invece come un fattore di chiusura totale, l'Europa ci ha messo i bastoni tra le ruote, ci sta penalizzando, ci sta costringendo, molti hanno perso il posto di lavoro, quindi cerchiamo di spiegare questo. Ecco, mi piace molto il raffronto che lei ha fatto Italia-Europa, c'è una parte della popolazione italiana che vorrebbe staccarsi da un sistema europeo che è stato raggiunto anni fa per arrivare a un conglomerato europeo. Per evitare guerra interna. Mentre in Russia abbiamo avuto un sistema sovietico che è durato per tanti anni e qui c'è una volontà di staccarsi da questo sistema vecchio, c'è un'identità di popolazione, di gente che è diversa dal sistema russo. Quando è caduto, negli anni 90 è caduto il muro e quindi c'è stata una divisione, c'è stata certo una ricreazione dell'Ucraina collegata a un sistema russo ma comunque di uno stato ucraino, di una regione ucraina. Questa è stata sempre collegata a un sistema russo perché la Russia ha sempre cercato di tenere questo sotto il proprio predominio, la sua propria gestione, ma c'è una coscienza delle persone che vorrebbe completamente essere separati da un sistema gestionale russo, da un sistema economico, da un sistema di divisione, di organizzazione. Quello che è successo un anno fa ha fatto intravedere alle persone la possibilità di tornare a un regime sovietico, a un regime di controllo totalitario. Ha un regime, quindi il problema è il regime di controllo. Un regime di controllo totalitario. Oggi, che prima, fino a un anno fa, il rapporto tra ucraini e russi era di fratelli, cugini, quindi un rapporto ottimale, oggi si è aperto un varco importantissimo perché ha scoperto le carte di un russo prepotente e sovrano che cerca di sopprimere gli ucraini. Quindi oggi si è aperto un varco che non può far portare l'Ucraina ancora a ripensare di arrivare alla Russia o di ritornare indietro per essere alla Russia. Però una parte dell'Ucraina si sente russa. E quindi perché? Dobbiamo capire una cosa. L'Unione Sovietica era una miscelanea di razze e di popolazioni che si sono mescolate nell'arco di diversi anni dove il regime sovietico ha trasportato popolazioni da una parte all'altra. La parte Crimea e la parte est del paese è sempre stata una parte di miscellanea di persone che vivevano su una lingua russa, che però non erano russi, che erano ucraini. Quando il presidente Yanukovic è scappato l'anno scorso e c'è stata la destabilizzazione dell'Est, quindi l'inizio di questa guerra all'Est, su una popolazione di Donetsk di un milione di persone, 500 mila persone benestanti di Donetsk, persone più ricche d'Ucraina, si sono spostate e sono scappate verso l'Ucraina. Una parte sono andate anche nella Russia perché hanno rapporti con la Russia, ma gran parte si sono spostate in Ucraina e quindi sono a Kiev, sono a Nipopetrovsk, sono a Kharkov, hanno spostato famiglie, beni e situazioni e le hanno trasportate perché non si identificano come russi. Ecco, quindi questo fatto di identità, di appartenenza, che è stato detto che nella zona della Crimea invece è più sentita, sono sempre stati i russi, almeno ci hanno fatto percepire di rivendicare questo, è anche legata a fattori economici di aver ricevuto dei soldi, dei finanziamenti dalla Russia? La Crimea? La Crimea è sempre stata di mentalità russa, è sempre stata di mentalità russa perché storicamente è stato un dono della Russia all'Ucraina e questo è anche proprio per la presenza di russi. Quindi hanno subito questo distruttore oggetto. Per la presenza di russi, dovete sapere che la Crimea è una penisola molto povera, vive solamente di turismo. Di turismo, sì. Un po' di agricoltura, ma la maggior parte per turismo. D'estate ci sono sette voli giornalieri da Mosca, quindi di russi che vanno a passare le vacanze in Crimea, forse di più degli ucraini che vanno a passarle in Crimea. Cioè quindi c'è una grande presenza russa come... Ma perché ha un clima particolare, ha una situazione... È l'unico mare che i russi si possono permettere all'interno del sistema russo. Certo. Quindi è sostanzialmente questo che ha fatto percepire questo senso di identità, di appartenenza. Sono stati oggetto di un dono. Certo. I donati. E quindi è rimasto ancora questa appartenenza, questa mentalità russa nella maggior parte delle persone, non nella totalità, nella maggior parte delle persone, che fa vedere la Russia come il paese praticamente di dipendenza o di collegamento. Ecco, quindi diventa, per rilasciare sempre quanto aveva interpretato il nostro telespettatore, che un po' ha fatto una domanda, perché è legata anche al fatto di queste aziende che hanno chiuso, quindi sono immobilizzate, immaginiamo anche tanti posti di lavoro messi in discussione, messi a rischio. Cosa può andare a cambiare se vince una parte anziché l'altra, relativamente all'aspetto economico? Purtroppo oggi non si può pensare a una vincita di una parte piuttosto che un'altra. Ti parla sempre di compromessi. Di un compromesso. Le posizioni sono troppo avanzate per pensare a veramente una vincita totale di una parte piuttosto che non si può fare. Però l'accordo che si è siglato di questo cessate il fuoco sta in... Vabbè, cessate il fuoco non immediato, dopo un po' di tempo con delle ripercussioni. Cosa sta a segnare? Oggi si sta continuando a bombardare su quelle zone lì. Esatto, si sta continuando. Non è cambiato niente. Dove si bombarda? Nella regione nord di Doniesk, dove c'è l'importante snodo ferroviario, quindi controllo delle posizioni strategiche della zona dell'estero. Non sono zone abitate particolarmente? Sono zone abitate. Quindi se la popolazione è a rischio? Non è a rischio. Quindi ha una zona destabilizzata fortemente? Assolutamente. Però si riesce ad arginare a quell'area, a quel territorio, quindi quasi ci fosse un tacito accordo di non andare oltre, insomma? Sì, bisogna capire fino a che punto la parte dell'est, cioè la Russia, non vuole fare ancora invasione o prendere posizioni sulla donna. Cioè la strategia è prendere posizioni in questo momento. Infatti reagirebbero gli Stati Uniti a questo punto che ci sono in mezzo? Reagirebbero gli Stati Uniti e sarebbe una cosa disastrosa. Disastrosa. Ne sono consapevoli, pienamente consapevoli di questi russi oppure potrebbero giocare... I russi ne sono completamente consapevoli, però... Perché si sono un po' arrabbiati dell'embargo, no? Assolutamente, ma non solo per l'embargo, ma per la posizione dell'America sull'Ucraina, sulle posizioni generali, tutto quanto. Immettere delle armi pesanti ancora nella zona da parte degli Stati Uniti vorrebbe portare i confini della guerra molto più vicini a noi. La colpa viene attribuita anche all'Europa all'aver permesso questo, no? Ovviamente alleata, ad aver accettato questa alleanza con un'intromissione importante. O rientrava negli accordi internazionali che in ogni caso... Si può tradurre come una debolezza dell'Europa. Una debolezza dell'Europa è stata interpretata in questo senso. Per tradurre come una notevole debolezza dell'Europa. Come ripeto e ribadisco, i trattati sono stati fatti da due primi ministri e non da una comunità europea. Quindi è una figura così simbolica, quella della Merkel e di Hollande, tutto sommato. A questo si rilaccia sempre un'altra posizione, una reazione che c'è stata, quando Tsipras si è rivolto all'Europa chiedendo non tanto dei soldi, ma una dilazione di pagamenti. Ha avuto una risposta abbastanza netta da una parte e dall'altra e dalla terza. La Russia si è fatta avanti e ha detto ci posso mettere io i soldi. In quel momento l'ha scattato Obama, sono intervenuti gli Stati Uniti, tranquillizziamo questa cosa. Anche questa posizione e questo intervento qui della Russia, strategico, insomma è un momento cruciale. Dai la mano, puoi dare una mano, ti offri di dare una mano alla Grecia che poi dice non chiedo soldi, in realtà voglio soltanto tempo, almeno questo dice, però caspita, metterlo zampino sulla Grecia è qualcosa di assolutamente pernicioso. Se voi lo guardate strategicamente è una grande partita a scacchi. Infatti sì, l'ho visto dal di fuori. È una grande partita a scacchi. Ognuno si sta giocando alle proprie pedine nel migliore dei modi, però con una fragilità e una incompetenza dell'Europa veramente notevole. È questo che infatti lascia allibiti perché a un certo punto invece che fare massa critica, essere uniti, compatti in modo tale da mostrarsi in un certo modo al mondo, agli occhi del mondo, perché poi siamo veramente un paese, l'Europa è una realtà piccola rispetto alle grandi potenze mondiali, non ne usciamo bene. E il fatto stesso che ci sia questa rigidità nell'austerità, nel non concedere alla Grecia, che è ancora un brufoletto più piccolo, però comunque ti può destabilizzare perché ti fa entrare, a un certo punto senza neanche pensarci su, la Russia che credo ne abbia anche piacere. Assolutamente. Se avete visto le notizie di ieri, Putin è in Ungheria per cercare lo stesso accordo con Ungheria verso la Russia. Cioè che cosa vorrebbe fare con l'Ungheria? Avere, dare agevolazioni, dare opportunità, dare sconti sul gas, dare sempre le solite cose. All'Ungheria, ma l'Ungheria sta bene. Per l'Ungheria si è resa disponibile di supportare la Russia, quindi stiamo attenti che questa invasione è molto vicina a noi. E l'Ungheria comunque è pieno titoli in Europa. Questa situazione è molto vicina a noi. È molto, esatto, molto vicino e a questo punto prende il discorso anche lì della Grecia, si avvicina sempre di più. Quindi la posizione politica dell'Europa dovrebbe veramente in questo momento crearsi in velocità un sistema europeo forte, un sistema europeo di gestione, altrimenti l'Europa stessa è finita nella sua gestione generale. Basta una Grecia che è l'ultimo fanalino di coda dell'Europa per stabilizzare un'Europa stessa. Quindi stiamo portando veramente il conflitto non a livello armi, ma a livello economico in piattaforme in situazioni molto più importanti. E il discorso della... quante responsabilità attribuibili anche alla rigidità comunque della Merkel che per carità ti metti nei loro panni, dice effettivamente, la cicale, la formica, da una parte ci sono le formichine che carpe diem, anzi carpe diem, che sacrificano il tutto, vivono in un certo modo, dall'altra le cicale che se ne fregano, che devono combinare e poi sono là a chiedere, per cui bisogna vederla anche da diverse prospettive. Dal nostro punto di vista c'è un po' di rigidità forse eccessiva, però in questo momento detta le regole. Può essere la causa come... quindi ciclo e riciclo della storia, no? Assolutamente, è il ciclo e riciclo della storia, sia politicamente sia economicamente. La Germania sta giocando un ruolo di predominio su tutti quanti i paesi dove... Quindi troppa rigidità. Troppa rigidità, troppa gestione e preponderanza economica, perché io conosco la struttura tedesca presente in Ucraina, per parlare di Ucraina, e sono organizzatissimi, hanno un sistema economico a prezzi molto superiori dei nostri, molto superiori dei nostri, però con un sistema paese che gli aiuta e gli dà un sistema che vanno a posizionarsi sui vari mercati in maniera strutturata. Quindi vuol dire che loro, pur avendo dei prezzi superiori, quindi non è che vengono a ditare a noi che abbiamo prezzi superiori perché la nostra mano d'opera è cara, loro ce li hanno superiori a noi, ma sono sorretti da uno Stato che li supporta in qualche modo. Germania ed Austria sono in prima fila proprio per grandi potenziali appalti sul territorio e organizzativi. Un paradosso è l'Unicredit, banca italiana, quarto gruppo bancario ucraino, a livello bancario del quarto gruppo. Per poter utilizzare finanziamenti e gestione sul territorio bisogna rivolgersi all'ufficio austriaco dell'Unicredit per poter far fronte a operazioni commerciali verso l'Ucraina. Ecco, bravissimo. Allora questo è molto importante perché volevo affrontare il tema anche delle banche. Perché? Perché abbiamo parlato di situazione politica proprio per capire qual è la situazione effettiva che a questo punto ci fa comprendere che sì, è un territorio caldo, è una zona in continuo movimento, però tanto quanto domani possiamo averla anche a casa nostra, la stessa situazione. Non per questo l'economia si dovrebbe fermare, anzi può continuare perché queste imprese continuano. Domani c'è una manifestazione fieristica importantissima e c'è, pur dicendo che c'è la guerra lì. Il ruolo delle banche è strategico perché un imprenditore che vuole pensare di investire deve anche avere gli istituti di credito che lo sopportino in eventuali investimenti, in eventuali strategie, eccetera. E allora capiamo anche gli istituti di credito che da noi veramente regolano l'esistenza e la vita e la morte delle imprese e dei cittadini che peso hanno in un contesto che appare destabilizzato o se per la grande finanza, la grande economia non è tale, non è così. Ne parliamo un attimo insieme, subito dopo la pubblicità, tra pochi secondi.